Obiettivo conquistato, l'Italia è nelle quattro d'Europa. Esatto, diciamo che il passo importante è fatto, sicuramente né primo né ultimo di importante in questo cammino e siamo felici di aver portato questo risultato a casa, di aver concluso in bellezza il nostro traguardo in Italia e adesso andiamo avanti e andiamo a Bruxelles. Siete l'unica squadra che ha vinto sette partite per 3-0 in questa prima fase. Sì, secondo me è un risultato molto bello, anche oggi abbiamo dimostrato che nelle situazioni complicate siamo state brave a tirarci fuori per comunque non lasciare un set alla Francia che comunque ha dimostrato un buon livello di pallavolo. Come siete riusciti a cambiare marcia? Perché vincere sempre 3-0, trovarsi in difficoltà e portare comunque a casa il set non è da tutti. Certo, mettiamo tanta grinta grazie al nostro capitano e comunque abbiamo anche tante persone che entrano per darci una mano. Siamo tutte una squadra molto equilibrata con tante persone che hanno voluto dimostrare e che sono pronte ad entrare quando serve. Sei giovanissima ma vai a giocare una Final Four dove ci sono Vargas, Karakurt, Boscovic e tu sei una di queste stelle. Grazie, è molto bello finalmente giocarci contro perché da tanto che le guardo, le ammiro e adesso possiamo dire che mi metto alla prova con queste grandi giocatrici e non vedo l'ora. Grazie. 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 Grazie.